Si chiama Martha Stewart, è una 81enne, condottrice televisiva di famose trasmissioni della TV e pensate che questa donna ha cucinato in topless. Alla venerano un'età di 81 anni, la donna non ha avuto problemi, ormai è diventata un'influenza raffermata, ha intrattenuto tutti i presenti attraverso la sua cucina nel caffè Green Mountain. Aveva soltanto un grembiule addosso, sotto non aveva il reggiseno, il video ovviamente è diventato virale, ha avuto un successo, un eco-mediatico pazzesco, tanto che molti personaggi lo hanno poi ricondiviso su web in altre piattaforme, come per esempio TikTok, ma anche Instagram. Insomma, la donna non ha avuto problemi a mostrarsi soltanto l'armata di grembiule sotto al suo grembiule e neanche indossava il reggiseno. Stava praticamente, diciamo così, nuda, per dirvelo in maniera piuttosto diretta, quindi brutale. Dal narratore italiano è tutto, una scelta forse coraggiosa, forse per far parlare di lei stessa, ma comunque ha avuto un successo, ripeto, per questo video abbastanza, forte abbastanza, paresi, alzando dire. Iscrivetevi, commentate, diciamo al vostro reno, un narratore italiano.